Salve amici di Dara e benvenuti a questo nuovo appuntamento con la rubrica Metal Vegas. Per queste vacanze iscritte vi ho preparato 5 Metal Leaks, ognuno dei quali offre lo studio di una tecnica diversa. Mettendo quindi in gioco sempre la stessa figura di Dara, troverete un leak per la pennata alternata, per il legato, per lo sweeping, il tapping e lo string skipping. Di seguito vi suonerò i fraseggi su una base composta per l'occasione, dove la prima esecuzione sarà a velocità dimezzata e poi per due volte consecutive a velocità normale. La base di modo e olio la troverete scaricabile sul sito di Dara per esercitarvi e per improvvisare a piacere. Come sempre, buono studio e vi meravigli. Ciao! We are crucified Barbara! Come on you losers! We're gonna teach you to play heavy metal! Nooo! Nooo!! Mohammed's Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.